I carabinieri di Agrigento hanno arrestato Ramefa Chebba, 19enne gambiano, che tra l'altro è ospite di una locale comunità di accoglienza, per detenzioni ai fili di spaccio di stupefacenti. I militari infatti sospettavano che il giovane fosse il pusher che riforniva la piazza del capoluogo di provincia e dopo che alcuni carabinieri in borghese hanno osservato per un certo periodo alcuni movimenti sospetti, hanno accerchiato e bloccato lo straniero in pieno centro mentre stava per disfarsi della droga, tentando di nasconderla in alcune intercapedini delle pareti di un edificio abbandonato. Dalle tasche del gambiano sono saltate fuori sei stecche di ascice e un panetto del peso complessivo di quasi un etto e oltre 150 euro in contanti, ritenuti frutto dell'attività illecita. Lo straniero è stato tradotto in carcere a disposizione dell'autorità giudiziaria. Lo straniero è stato tradotto in carcere a disposizione dell'autorità giudiziaria.